Riccardo Rosario Riccardo Rosario Sai chi sono? Riccardo Rosario Troppe bugie su di me perché Forse per business Ah ok Dietro al pc Trova l'intruso Vieni papà Vieni papà Eccolo l'intruso Eccolo Eccolo l'intruso Ecco l'intruso papà Ma dove stai a papà? Trova l'intruso E' il piccolo mare Sei l'intruso Ma ragazzi Smettete di copiarci Per l'amore del cielo Se arrivano segnalazioni ogni giorno Di gente che ci copia le 5p Diventano le 4p L'altro che ci copia il video Ragazzi Due cose Uno Se copiate La gente lo sa Perché Il mercato è piccolo Ci scrivono tutti i giorni Lo sa che è tanto copiate noi Va Questo è il copiancollo di Giacomo Freddi Uno Due Vi arriva la PEC Dall'avvocato Perché con altri L'abbiamo già inviato Quindi ragazzi Smettete di copiare Ispirarsi va bene Copiare Incollare No Non va bene Per questi due motivi Che vi ho detto L'immagine E due Per il nostro avvocato Cosa fai per Pasqua Pasquetta Fai una gita fuori porta Ne guardo bene Stai a casa Mi manco a casa E mi annoierò Alla morte Per due giorni But it's still ends up the worst And I'm crazy E' un po' di E' un po' di E' un po' di Abba Che cazzo feto Va che è squai E' un po' di 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 E' vero il pugno Il pugno di metallo Sta ritornando Capito? No, no Tu hai detto bene No, io stavo seguendo Le parole che hai detto a te Cioè Vi siete ripensati Pandori Alla cioccolata Uova Colombe Colombe Come colonna Come goldoni Poi dopo Abbacchi Hanno bevuto gli amari I limoncelli Il vino Hai capito Che hanno fatto Si sono ingrassati Capisci? Sono andati a cesso Dieci mila volte Dieci mila volte Hai capito? E adesso ritorniamo a lui No? E' certo Finalmente E' certo Finalmente E' no Closharts E benvenuti In questa nuova Trasmissione Vi siete rimpinzati Di uova Pandori Alla cioccolata Di cioccolata E hanno bevuto gli amari Sono andati a cesso Dieci mila volte Me la ricordavo comunque Quante volte sei andato a cesso In questi giorni? Ciao Lucia Ma scusa Te potrei di solo oggi Allora sto sveglio Dalle dieci di mattina Ci sono andato già tre volte Madonna mia Salute E mi sto lamentando Tra me e me Però visto che Mi hai fatto questa domanda Mi lamenterò anche con voi Che non ho la cartigenica E mi sto un po' tenendo la quarta Non hai la cartigenica a casa? No Non la cartigenica qua Con cui mi pulisco il culo? L'altro giorno In caso estremo Con la mandi Le pagine del libro di Big Luca Fratice Però sono tornato zoppicando È vero Cioè il panno multifunzionale Dei me contro te Ma è bannabile Se io lo faccio vedere così Poi vado a fare quello che devo fare Poi ritorno E lo faccio rivedere Usa solo il lato con lui Non sporcare Sofì È vero È vero È vero Bravo Così è così Almeno è anche più spesso Perché se no così è Cioè poi bisogna buttarlo Senza Ma poi lo butto No il panno multiuso Non si butta mai Ma dici che poi Lo rilavo al lavandino Gianluca Contegno Scrive Lucia Roma Comunque Eh nonnina Ma io come faccio Cioè nel senso Dovrei andare a comprare Che ne so Dei fazzoletti Eppure il cappello volendo Comunque posso dire una cosa Il cappello no Giustamente Marco intanto Hai spento la ring light Un piccolo saluto Ah sì è vero Un piccolo saluto Marco Ciao Marco Ciao ragazzuoli Che dite Ciao bello solito Come è nata la Pasqua ma Abbastanza bene Tranne che stupidamente Ho accettato una partita Ruba bandiera E ho perso La pioggia Eh ha pure piovuto Una certa Però un'oretta De minimo De mezzo alla sabbia Che pareva di stare Tipo su Interstellar Ma sei serio Ma tazzi che mi hai ricordato Ruba bandiera Sei serio Ho giocato a ruba bandiera Stupidamente ho accettato Una partita a ruba bandiera E che senso Perché stupidamente Che te sei C'hai avuto una ripercussione fisica Che frase è bellissima È diventata molto più violenta Di quello che mi aspettavo Cioè vi siete Ammazzati di botte Allora erano tutti tranquilli Tranne il numero 3 Che era quello del mio avversario Io pure ero 3 Eravamo i due più matti A quanto pare E a un certo punto Se siamo iniziati a spintonare Buttasse per terra Squid Game E a fine partita Io ero morto Però L'altro stava bene Io Ci ha ancicato È grevissimo Quando chiamavano il 3 Poi io continuavo a chiamare Lo tenavo il 3 Io non mi ricordo neanche Come se giocava E che è successo? È un difficilissimo Non è difficile Però non mi ricordavo Cioè tu presenti Quando prendi la bandiera Se l'altro ti tocca Hai perso Quindi non devi prendere la bandiera Allora se siamo messi tutti e due Davanti alla bandiera C'è stato quel momento tipo Western Chi la tocca per prima Chi la tocca per prima Il genio Mi dà uno spintone A tutta forza Via la bandiera E scappa Io da là io dico Vabbè la porta dopo Io ti ammazzo Io raggio Quello che chiamava subito dopo Fa 3 Allora ci richiamano Io parto Gli salto addosso E parte una rissa Ma erano sconosciuti? No Era un amico mio Era Alessio Per scherzare Stavamo a ride Tra sconosciuti No Eravamo amici Solo che A caldo era divertente Poi a freddo I dolori Si sono sentiti E quella è l'età Sempre così Lo dico tutte le volte che scopo Ma cosa abbiamo? Per lì è divertente Dopo me ne pento sempre È vero Non solo per I problemi fisici Comunque uno ha scritto Che Pasco de merda Ammazza Ha fatto la Pasqua migliore di tutti Cioè Stana Pasqua Stana Pasqua Ma che c'è De più divertente? Vabbè alla fine sì Io non volevo farlo È stato divertente È l'unico che ha fatto Attività fisica a Pasqua Cioè top Noi siamo rimpinzati C'hai dolori? No Perché? Hai fatto Ah No era un piccolo Stomago Ma è questo Quella pezzanonna Mi dice Mi preoccupo Contegno Come posso avere Contegno da incontinenza? C'è qualcosa per te qui Volendo Però questo dici Che iniziamo a pulirci il culo Comunque devo dire una cosa Che la gente giustamente Alle volte pensa Che siano gag Quelle di Gianluca Onestamente Onestamente Io qualche giorno fa Ho trovato davvero Il libro di Big Luca Buttato così Sul lavandino È ancora lì? Me l'ho ricordato Aspetta faccio un video È lì Me l'ho ricordato Ma posso andare in diretta Su Discord? Sì Sì pure Vediamo È lì L'ultima volta Che siamo stati in studio Se non erro Tutto in diretta ragazzi Mi lascio venerdì Tipo bodycam Esatto Era sto venerdì E io cagai Allora entro nella server Stanza live Cagai durante Gripi Cerbero No non era Gripi Cerbero Era un'altra live Sto venerdì Però cagai Mi ricordo Ok Portami lì Ah Mi devi abilitare il permesso Mi sa? No mi direi Sta merda di Discord Mi sta di stalling Ok aspetta aspetta Ah ecco a finire Al volo gli aggiornamenti Che fallo Cagai Non ci mette niente Come si dice Che scrivete la stecca cagai Ecco lo sto dentro Ok non si può dire cagai Proviamo la cam mobile interattiva Suona pure bene Tramite Desert Vai Eccoci aspetta Eccomi qua Magari in orizzontale Leva l'audio Non levato il volume Ok Aspetta perfetto Sono mutato Sì un secondo Che l'allargo E la metto Qui Sta farito E sto cagai Ma perché Non si dice cagai Cagai Come la facciamo Mettiamo l'inizontale A me piace pure Come suona cagai Direbbe essere il mio nuovo cognome Gianluca Cagai Bello Bello zi Bello Ma Dedicagli proprio una scena intera Zi Ma io potrei andare a cagare Con la prospettiva discord Basta lo copi in colli Sì aspetta un secondo solo Così ce l'hai pure un po' più grossa Pure qui E ce la dovrei avere già qua Si vede lo cyborg La bodycam Mar Marra bodycam Oddio Ecco Quindi ora Andremo a far vedere il bagno Sì Se ci sta ancora All'interno di una grotta Esatto Qui si sentono Nella sala musica Inutilizzata Da tipo due mesi Ma che proprio oggi Finita questa live Risistemerò con rello Top top Ci sarà pure A lupo Serello Dai Mi sono raccomandato Di Di ci sono Le musiche E gli album Che più ci hanno ispirato Nella vita Certo Come no Il sergione Oh yes Che è quello Oddio Ah Battia Fetus Mazza Non l'avevo riconosciuto Beh Genboy Molto meglio Bellissimo Bello Cerberino Capolavoro Questo qua Oddio Ma che è Ah Ray Jackson Mamma mia Bello Bellissimo Uno dei miei preferiti No 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 Cos'è Dei plianne Non c'entra nulla con noi Che ci hanno lasciato là Ma chi è che le hai messe Ma mo li levo infatti A Royal Rumble A Royal Rumble Ok qua andiamo verso la zona Ah vedi Il Dio Porco Io non le ho mai viste Queste cose Di Don Alemanno Don Alemanno Esatto Bellissimo Ma quando le avete messe Da poco Io non l'ho mai notata Tutta la zona Quello è un altro vanto Eccoci qua Qua andiamo Là c'è la zona Vedete C'è il cestino Si può inquadrare il cestino Perché è importante Cestino Quello è il nostro cestino Questo è un cestino Ragazzi E qua è la mia zona preferita Dove sta per entrare Dario Pare Shining Bellissimo L'unico posto che non hanno mai visto Esatto Non è mai stato visto Pare Jack Torrance Che entra nel bagno Ecco lo spettro Lo ricordavo che era lì Te mettiamo l'audio Se è lontano Eh mo non prende internet Lì però sai Eh Beh ecco Un po' sì Le pagine Vabbè quello è poi un altro uso Il dietro Poi manca qualche pagina Ma è difficile capire quale Perché io le strappo a caso Esci fuori Da che non se via bene lì Non prende internet Tieni pure le porte aperte No No Oddio Ecco te Comunque è veramente lì Regà Non era una finzione Davide è operatore Con lo specchio Un po' che lo Vedi Le mattonelle È un po' pixelato Ma si capisce Ecco Ah Vedi Sta ringraziando i sub È molto cinematografico Sto bagno alla fine Vedendolo così Puoi far vedere le mattonelle Che ho letto un commento Che c'hanno Hanno una fantasia Qualcuno ha riconosciuto Ste mattonelle Ma non so Le mattonelle delle nonne Al paese Non avete il bidet No non è una casa È già tanto che ci è star bagno Il bidet è il lavandino Eccoci Certo A sto punto Abbiamo anche Il garage Sì il garage prende meglio Che al bagno Dove ora alzerò Occhio sia Occhio giusto alle tarts Oggi live follia Quello che vedete là È il mio divanone Che avevo a casa vecchia Prima di cambiare casa È stato portato qua Doveva restare lì per poco Questo è il cable management Cavi residui La bici di Davide La bici di barra Bici top Il citofono Pure lì Apprezza Perché non sapevo che c'era pure là Un citofono Ne me ne so accorto ora Stampante mai usata penso Videocamera mia Usata una volta Tastiere Da 10 euro Grazie il pelatone Grazie Grazie 25 Lo squalo rubinico Una barucca No quella Divano Ma Quella è una testa De donna Ci sarà gente che riconoscerà Questi Diciamo Probi Aggette dell'anno scorso Sì sono vari gadget Sono stati usati Diciamo Un po' qua un po' là Sono proprio quelli Dell'anno scorso C'è una corona pure C'è una corona C'è un po' d'alcol Lì Che quella è la zona ricreativa Grazie Gianmett Dovrebbe fare un canale Tipo quello americano Solo della mano di Davide Che fa cose Ma sì Ma già Lì c'è una Diciamo Una caverna Del tesoro Che sta facendo Le cuffie del merda Che cosa sta facendo E questo è uno streamer medio E quello so io Durante i live De politica Quello so io a casa Durante i live De politica Non voglio fare nomi Però mi sono venuti Due o tre streamer Che gli assumiano Sono un po' di scemi Ma avete capito A chi mi riferisco No Che cazzo Idratarsi è importante Pazzito Alcol sul divano Io metto l'audio Cosa fa No le mie sigarette No Ma quelle le ho comprate Poc'anzi Guarda Ha sozzato tutto Si è mutato Ok Che cosa vuole fare La birra pure Ah così Ah dice Ah hai capito Il messaggio è che L'alcol e il fumo Uccidono Sì Bravo Un messaggio per il sociale Bellissimo Bellissimo Applauso Madonna No Dice no Non è quello Non è quello Come ha fatto La bici La bici Ah no Sbagliato La bici fa bene La bici sì Bici ok Bici ok Streaming no Le magliette Queste sono Le magliette di prova Non so quelle che comprerete voi Magliette residue Che si potranno comprare Ai nostri eventi Quando li farei Non voglio responsabilità Ne abbiamo tutti Chiamo la polizia Guarda tra falliti Io odio il Cerbero Podcast Pure abbiamo Ce ne sono tante Ce ne sono tante Dì che c'è l'audio Puoi parlare Puoi parlare comunque Davide Che ti sentiamo Ti sentiamo No 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 Se ne va No Abbandona il Cerbero Questa è l'ultima cosa Che si vede È andata così Eh vabbè L'ultima immagine Che vedremo di Davide È la sua mano Che ci saluta Che amarezza Eh vabbè È andata così È andata così Niente Ma dov'è Dov'è Simone E mazza Sembra Oh è uscito proprio Sembra la fine Andato via Sembra la fine De Dragon Ball Non lo vedremo più Davide dove sei Ah eccolo Ah è tornato Sembrava la scena De Gogo Quando vola via E saluta Lo so che potevo parlare Però era più bello muto Sì era più bello muto La c'avevi azzeccato Ma poi c'è un'altra cosa Ragazzi Era lo streaming Le sigarette e l'alcol Ti rendono così Dai Bello Bello E l'applicio invece Non ti fa deragliare Giusto Giusto Poi mi potete spiegare Questo messaggio Che è stato messo Sopra di noi Il pesce d'aprile Sarà l'unico Che vedrò ad aprile È nuovo Ma che intende Cioè che non Non ama come cibo Il pesce Io che ne so Carenza di omega 3 Capiamo Oppure che vuole Un bel pisellone No Perché il pesce d'aprile È comunque un pesce Metaforico Quindi non si può vedere Giusto Cosa ci vuole dire Sabrina Con questo messaggio criptico Perché l'unico che vedrà È un pesce metaforico Quindi non vede pesci Pesci sono quelli Che nuotano nell'acqua Sì si mangia Ehi pelatone Grazie Grazie pelatone Un'altra botta Dai Grazie pelatone Stavillare Grande pelatone Che stiamo a 10 Giusto Si collega tipo a dorme Con i pesci Come dicevano i mafiosi Chi dorme non piglia Chi dorme non piglia pesci Lei non dorme Oppure il pene Sì Volendo È anche un modo Non so se lo sapevate in chat Però Ogni tanto si usa Sì invece di dire Il pesce cazzo pisellone Sì Un membro Maschile Pesce a pesce Voi ricordate la famosa Città Pesce a pesce Pitello Sì Membro Riproduttivo Maschile Però dato che Durante il pesce d'aprile Si deve scherzare Sabrina Diamanti Scopa una cifra In realtà Perché è l'opposto Certo Il pesce d'aprile È il suo stesso È questa cosa Se noi crediamo In questo momento Se noi crediamo a questa cosa Lei ci fa Pesce d'aprile Invece scopo Un sacco di pesci Ma è oggi pesce d'aprile No ieri era Era ieri Ah quindi Pasquetta Era pure pesce d'aprile Sì meno male Che un sacco di gente Se l'è scordato Per questo motivo Esatto No ma sai Sai ieri come divertivo Peccato Meno male Meno male Se siamo arrivati Dai palle Pure il pesce d'aprile Dai Diciamo che ci sono Molti colleghi Che hanno fatto finta Di essere streamer Fino ad oggi Quindi insomma Il pesce d'aprile Non era necessario E anche molti che hanno fatto finta Di essere politici Eh lo so Buona Santa Pasqua di cuore Una giornata spero di famiglia Di riposo Di riflessione Grazie King Cos'è? Marco te prego Aiutami Buona Santa Pasqua di cuore Che può essere? È la Pasqua che è di cuore O gli auguri L'augurio penso Eh però L'ha detto con una cadenza strana Buona Santa Pasqua di cuore Buona Santa Pasqua di cuore È la pellicola che si brucia Sembra c'è la presente Proprio quando si ferma E piafogo Buona Santa Pasqua di cuore Una giornata spero di famiglia Di riposo Di riflessione Di tradizione Di orgoglio Per chi siamo Per il nostro passato Che è il nostro presente No! Tutti effetti a caso Cioè perché il passato È il bianco e nero Il futuro è tipo Il nostro passato Che è il nostro presente Alla fine no? Che è un po' una stronzata Perché lui è reazionario Quindi il passato è oggi Certo certo Il passato è sempre presente E il futuro Il passato che è il nostro presente E il nostro futuro Non si può Vedi il passato E il nostro presente E il nostro futuro C'è chi dice Guarda è una cosa in realtà Molto interessante Perché il passato È in qualche modo Sempre presente Nel presente Ma in realtà Anche il futuro È sempre presente Nel presente Ah vedi Allora è più profondo Di quello che pensavamo Salvinone Cioè Ok Può sembrare una frase a caso Ma in realtà Tutto si converge Il tempo è un lago ghiacciato Sì È tipo una cosa Che tutto si converge Nel momento presente Cioè tutto quello Che deve accadere È già accaduto Come allo stesso tempo Quello che è già accaduto È già accaduto E riaccadrà Quindi siamo solo Cioè tu hai solo Spazio di manovra Nell'istante È incredibile E lì puoi un po' Modificare Se domando te questo Intendeva Il maestro No Ah ok No Lui intende Solo la parte del passato Perché c'è C'è chi è innamorato Molto con il passato E non vuole lasciarlo andare E il futuro invece Invece Bisognerebbe amare entrambi Secondo me Chi ama troppo Il passato Pensa che il passato È il filtro in bianco e nero Come il film Che è uscito De Paola Cortellesi C'è ancora domani Non so se l'avete visto No ma me l'hai detto ieri Sì È carino Dove l'hanno caricato Su Netflix Su Netflix Su Sky Ah ok Perché è uscito al cinema Parecchio tempo fa Ha pure riscosso Un grande successo Ha fatto dei record Ho visto dei momenti Nanni Morettiani Ok Io ancora lo vedevo Non l'ho ancora visto Però me l'ho recupero Perché me l'ho perso al cinema Però me l'ho vedrò Sto curioso Sì sì Dai Non si può accogliere nessuno Non si può integrare nessuno Se si cancellano Le radici più profonde Del nostro essere Quindi buona Santa Pasqua Sperando Che i prossimi giorni E le prossime settimane Su questo io Da ministro Da segretario della Lega Da uomo E da genitore Ce la metterò tutta Siano settimane E mesi di pace Perché ci sono Lideri europei Che parlano di guerra Parlano di bombe Parlano di mandare Ma c'è sta la guerra Non è che Sono pesantoni È una cosa Allucinante Sto messaggio Cioè non è un messaggio D'auguri Sembra tipo Mettete la testa sotto la sabbia Con l'uovo di Pasqua Perché almeno alle feste Sì è un punto di vista Proprio da Ma secondo me Anche trovare la scusa Per riparlare di un uomo Di immigrato E poi per darsi un potere Che ovviamente non ha Perché non si può accogliere nessuno Se E poi io cercherò Da ministro Insomma Di mettere Di mettere A tacere Queste Problematiche Di guerra Si impara in cazzo E vedremo pure un altro ministro Tra l'altro Dopo Del governo Molto interessante Che ha detto Una puttanata Sul vino Sull'alcol Una cosa imbarazzante Che poi Le feste sono sempre Diciamo Servite per distrarsi Però Sono sempre anche Servite a distrarre La popolazione Che magari Appunto Un politico Gli dice Ma non pensate Alle cose che stanno andando Comprate il panettone Mettetevi là Non ci pensate Non ci pensate Cioè fatevi li cazzi Vosti Essenzialmente Magnateve l'abbacchio Non è un caso Che le feste Siano state Fagocitate Dal consumismo Tutte Tutte Con un'estrema facilità Poi Si è pensato Almeno che Tipo A Natale Ti devi Distrarre Così tanto Con Fare i regali A pensare A consumare Ad imbellettare Che è proprio Una distrazione Forzata E uno Sì Uno stordimento Uno stordimento Che ti forzano a fare E uno Pensa anche Che magari Lo sceglie lui Sì certo Ma infatti è per quello Che Benson È sempre profetico No Vi siete ingrassati Vi siete rimpinzati È quello Le bombe parlano di mandare I soldati A combattere A morire Fuori dai nostri confini Sono un pericolo Per loro Per noi E per i nostri figli Quindi buona Santa Pasqua Di famiglia Di serenità Di cristianità E soprattutto Di pace Ma questa musica Oddio 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 No Che è Oh grande Oh Ha messo a caso Aminotauro Aminotauro Mai visto I nabiti civili Tra l'altro È la prima volta Sai che non l'ho riconosciuto Inizialmente Con la magliettina Ah Eccoci qua La carrellata Dei messaggi Sono sempre interessanti Ma è stato Dura nove secondi No A tutti voi Alle vostre famiglie Una felice Santa Pasqua Di resurrezione Che sia fatta Di speranza Di gioia Di rinascita Tanti auguri A tutti gli italiani Ma beh E che dolce Vedi Molto meglio così Fatta tanto Per falla Però Ma poi Pasqua Proprio di resurrezione Poi tutta biondificata Hai visto? Ma perché Ma perché tra i consigliati Ci sanno tutti Super bionda I tiktok E Fierissimo Nove secondi Dai sintetica Ma ha bisogno Di accorcio a bro La melone Senti ma che hai fatto? Oggi ti sei confuso Sei tartonico forse Ti sei messa La cravatta blu A la giacca nera La giacca nera È l'affensario di Batman Ma tu un momento Mi vuoi spiegare I pinguini Che sono il sottorio Quest'altro c'era Il charlatano Ha detto Calverio 2 Perché il vero calverio È diretispo Ha detto Anche il nipote Del copaglio Magalini A parte Lo sport È joker Ah pinguino Ma non era brutto Octopus È un bel luogo Alfred Molina È due contro uno Sì Sì Qua un po' ha subito Eh vabbè cazzo Dai Grazie troppo Che ha detto De Pacciani? De Pacciani Stunnato Impossibile Replicare E poi abbiamo Ragazzi Una cosa Molto interessante Ah pure questa È bellissima Oddio Quindi Se riesci A zoomare un po' Marco A me comunque Fa troppo ridere Bandecchi La stessa cosa A me lui fa troppo ridere Signori Fa troppo ridere Ma signori È sempre scoglionato È vecchio Sì sì Però sta pure sempre Inducito Sì però fa troppo ridere Ma signori Sta sempre estremamente Inducito Ma guardi Non lo chiede a me Lo chiede ai cittadini Che lo vedono Anche perché mi sono Sì No ma guardi Lo slogan è facile Io penso che hai fatto Molto di più Di quanto hanno fatto Tutti Vuole la risposta Vuole solo la domanda No ma poi me la dica Con un altro tono A me Calmo Ma molto calmo Sa bassi Livello basso Livello basso Bravo Così Livello basso Stiamo bene Che tifo Giornalisti Già inizia bene Aspetta che riallare Facciamo chiamare Lui a una masciata Pussa Ma che sta Ma che ha mangiato Ha mangiato o ha scureggiato Ma che sta Pussa del merito Ma ha mangiato o ha scureggiato Senti che pussa del merito Mamma allontanà Mamma Io sono profumatissimo Ma che Senti che puss Terri di Hermes Una gli ha detto Terri di Hermes Terri di Hermes Pussi come uno Che è caduto Dentro una vasca Di profumo C'è grigio Vedi Guardate È grigio Grigio Come la parete È grigio Quanto si vanno bene Sotto sotto Sì E poi abbiamo Il king ragazzi Il nostro ministro Dell'agricoltura Ne avevamo già parlato Credo in relazione Alla carne coltivata Sì La carne coltivata Sì sì Era lui Con un bellissimo flex Siamo il primo paese in Europa Ad aver detto no Al progresso Geniale Io Voglio chiedere a voi Una prima impressione Su queste rapidissime dichiarazioni 25 secondi Oggi un tuffo proprio Nel declino Così bravo Sì sì Non so perché poi Cioè l'algoritmo Che mi ha fatto entrare In questi mondi strani Poi ho Ho fatto diciamo Una selezione L'alcol fa male È oggettivo Che fa male A vedere ci ricolleghiamo pure allo scheletro Dell'alteschio Dell'A Sempre bravo Che il vino Non deve essere qualificato Come alcol Che non è solo alcol È Una materia più Complessa Naturale Che abusato Fa sicuramente male In quantità Invece bilanciata Non sono sicuro Ma questo lo sapete voi Che faccia male Ma certamente Fa parte della nostra alimentazione Da sempre Commento però Risentiamo Perché è complessa Come struttura Io ci sarei più una domanda Quanto sta gente Sta ammanicata Con chi produce vino Mi chiedo questo Perché dicono tutti sta cosa Sì È sicuramente quello Interessi Ma anche abitudine Cioè È come dire Sì L'alcol Fa male Ma non voglio rinunciare al vino Perché ho degli interessi Che può essere sia Che sto a rota di vino E quindi Vabbè Proprio come Come paese È strano che non abbia utilizzato Anche l'argomentazione culturale Perché io fossi In politico di destra Direi anche Il vino è molto importante Per la cultura Del nostro paese I nostri vini Ma ti pare Che a tavola Non metti un bel bicchiere di vino Ma non scherziamo È una retorica Massimo Visconti insegna Nel senso Sa un bucone Che è curativo Quello non va bene però Quello non va bene Solo il vino Lui sta a dire Sì Però dico È un po' Quel concetto là Nel senso A me Mi piace Ma lo bevo Quindi Fa Bene È curativo Fa un discorso però Che l'alcol fa male Fa male tutto l'alcol Non è che appunto Tiri fuori il vino Perché è una materia più complessa Che contiene anche alcol Anche la birra È bravo È una materia complessa Contiene frumento Acqua E anche alcol Ma pure Che ne so Pure una vodka all'arancia A parte l'alcol puro A parte l'alcol puro Tutti quanti Diciamo Solitamente ripeto I prodotti a base di alcol Non sono solo alcol Certo No Quindi La cosa assurda A parte che comunque Nella parte finale Ha detto Fa parte ormai Della nostra tradizione Quindi comunque Ce l'ha buttato in mezzo Però Se risentite E qualcuno in chat Pure ha scritto E anche nei commenti Ho visto Ah beh ma ha ragione Ma che ha detto Che è strano Perché l'ho messo pure Su TikTok Allora forse Non l'avete ascoltato bene Lo rimetto Lo rimetto Lo rimetto Si si Alcol fa male È oggettivo Che fa male E fino a qua Ok no Fino a qua Siamo d'accordo tutti Il vino Non deve essere qualificato Come alcol Che non è E che è E che è Vabbè è un modo per farvi I finti tonti Cioè fanno finta Di non capire Poi me lo dite voi E magari Si sa benissimo In Italia Se una dottoressa Parlava e diceva Basta dire che Un bicchiere di vino al giorno Fa bene Perché è una cazzata Viene attaccata Mi ricordo fu attaccata Da Salvini E da tanti altri Politici Perché È estrema Sta Difesa del vino È una cosa culturale Però bisogna ammette Che fa male Come tutte le cose Fanno male La birra Secondo questa logica È ancora meno Alcol Del vino Oppure un Bacardi Non è alcol Perché c'è meno Cioè non ha Non ha un cazzo di senso Ma poi scusate Quella roba che è messa Tipo quanti gradi C'ha Non è pure la percentuale Di alcol Eh Non è che se c'ha 3 gradi Se il vino c'ha 14 gradi E un Heineken Ce n'ha 3 Eh Sono entrambe Però alcol È un discorso stupido Sono bevande alcoliche Io vorrei dire allora Una Vabbè Ma quante volte L'hai sentito Vabbè ma una birra Dopo l'allenamento Fa Bene Io l'ho sentito Birra no Ma chi lo dice L'ho sentito Ti giuro Al classicone Il vino Un bicchiere di vino ai pasti Sì Quella è molto comune Ti giuro La birra post allenamento Ti giuro Un post workout Non ho mai sentito La bella slalom Post allenamento C'era chi lo diceva Ti giuro Allenamento Russo-Ciceno Il tuo pallenamento Piuttosto che Ma perché ti idrata Ma che io che cazzo Ne so Ma al contrario All'alcol Ti disidrata E come Nel senso Tutti i professori Quando gli conviene No È un po' come Che ne so Uno che si fuma 40 sigarette Ma mia nonna Ha campato a 90 anni È una cazzata La genetica buona Posso fumare Sono tutte cazzate Che uno dice O per giustificarsi O come stava Di pure Marco Probabilmente pure Per interessi Oppure sei semplicemente Un ignorante Cioè alla fine Sono tre cose Allora secondo me O c'è interessi O sei ignorante Secondo me Sta roba della birra C'è un fondo De verità Perché comunque Ci sono certi Muratori Che sono belli muscolosi E in effetti Vanno de birra e sigaretta Durante il lavoro manuale E loro facendo un lavoro vero A differenza del nostro Possono parlare No Però il discorso Qual è ovviamente Che Certo Il vino È fondamentale Per la nostra economia E nessuno Dice il contrario Quindi lui È un ministro Dell'agricoltura E ci sta Che comunque Faccia anche L'interesse economico Da qui però A dire menzogne O mezze verità Ce ne passa Il fatto che lui Come ministro dell'agricoltura Come ministro in generale Si permetta di dire Sì l'alcol fa male Però il vino È un po' meno alcol Mi sembra La frase Della fattoria degli animali Un po' più uguale Degli altri Perché Perché Ovviamente La cosa che si diceva Sul vino Durante Il bicchiere di vino Durante i pasti E un po' di vino Non fa male È un'altra Come diceva Marco Cazzata Perché Perché Esattamente come quando Parlo di studi Che vengono utilizzati Ad hoc Con del cherry picking Per portare acqua Al proprio mulino Che cosa è successo Negli anni Che si sono fatti Degli studi Anche su alcuni Antiossidanti Presenti nel vino Solitamente nel vino rosso E infatti Si crearono anche Degli studi Del famoso Paradosso francese Ovvero È una Diciamo Una Maggiore Salute Cardiovascolare In determinati Punti Della Francia E Un consumo Di alcol Di vino rosso Soprattutto Abbastanza elevato Ovviamente Però È per questo Che si dice Anche in passato Lo dicevano addirittura Nutrizionisti O dietologi Un bicchiere di vino rosso Non fa male È ovvio Che un bicchiere Di vino rosso Ogni tanto Non faccia male Come una birretta Però Chi giustifica Compreso questo discorso Secondo me Vergognoso E Assolutamente Di disinformazione Chi giustifica Dicendo Mettendo nell'equazione Fa anche un po' bene Perché ha degli Antiossidanti È un criminale Secondo me Perché Questo non perché Non si possa bere Non si possa fare Economia su questo Il problema qual è? Il problema è che Si Mette nella mente Delle persone L'equazione Del vabbè Ma comunque Fa anche bene No Cioè il bilancio Non stiamo a farla pure D'una cosa Che crea Una Dipendenza Sì Criminale Ma perché ragazzi Perché Non bisogna negare Il fatto che Una quantità Moderata di alcol Sia tranquillamente Sostenibile Anche dall'organismo Nonostante l'alcol Sia veleno Per l'organismo Non sia utilizzabile Come fonte energetica Sia difficilmente Smaltibile Possa creare Un sacco di problemi Però Una modica quantità Si dice Il veleno Lo fa la dose Ovviamente Quindi Non è un problema Però Pensate anche La stupidità Di queste tesi Se È vero Che esistono Anche delle sostanze All'interno Di alcuni vini Antiossidanti In realtà Il potere Ossidante Distruttivo È tossico Dell'alcol È immensamente Più alto Quindi Il bilancio finale Non può essere positivo Cioè capite Che per raggiungere Una quantità Buona Di antiossidanti Per l'organismo Dovresti Buttarti dentro Una tale quantità Di alcol Per avere un effetto Benefico Eh quello Ve lo fa Ma certo È come quando Un dottore Ti dice Sì vabbè Fa male Ma una sigaretta Se sei agitato Ti calma Fumatela Ti prescrive Un pacchetto De camel Nell'anni 50 Sta mollare Che un ministro Dica Non è alcol Cioè Ti guarda È alcol Fa male Però ragazzi Fa parte del nostro pill È la maggior parte Del pill italiano Cioè Buona parte Sono tanti sordi Un bicchiere di vino Lossonitato Non muore nessuno Era così A voglia Nelle competizioni sportive A voglia Nelle competizioni sportive Fumate camel Con tutti i giocatori Che fumavano Entravano Che non fumavano Ma gli davano i pacchetti E dovevano fumare Prima di entrare sul campo Questa cosa che ha detto È verissimo Lo disse anche il mio professore Biochimica E meno male Ma infatti ripeto Che queste cose qua Io prima ho detto criminali Qualcuno ha detto Ah esagerato No ragazzi Questa roba È una disinformazione gigantesca Che già Sul campo diciamo Alimentare È infinita È sconfinata Però dico Ma pure un ministro Ci deve mettere Questo perché Marco mio Tu ti chiedi il perché Perché sta a fare Ste dichiarazioni Perché ovviamente Sempre contro La cattiva Europa Esattamente la cattiva Europa Della carne coltivata Carne chimica Oh Dio Ho paura Della carne chimica Che cosa vuole fare Vuole applicare Sui vini Etichette Diciamo Simile a quelle del fumo Che non magari Col bambino Incancrato Però tipo L'alcol fa male Così di questo tipo E quindi adesso La battaglia È questa No Non potete mettere etichette Sì fa male È nella nostra cultura Sì È buono Sì Fa bene l'astronomia Sì Però che c'entra Ma anche le sigarette Fa una parte della cultura Direi Capito Cioè che vuol dire Può esistere un film noir Senza sigarette No È ovvio Però Se ti fai una sigaretta Una sigaretta Ogni tre giorni Succede niente Se ti fai un bicchiere di alcol Ogni settimana Succede niente Fai t per prete Solo la domenica messa Oppure Ti puoi anche sfondare Di alcol e sigarette Puoi farlo in Italia Però non voglio sentirmi dire Che non faccia male Bravo O che vada classificato Come un Alcol Sì ma a parte Sì Cioè un po' alcol E un po' no Ma che cazzo è Un alcol a parte Ci rimarranno male Tutti i produttori di vini Che vedranno I loro magari brick Di tavernello Rovinati Da questo stampo qua Però E indovina poi Perché questa Bravo Perché si fa anche questa cosa Perché sono voti Ma sono voti quelli Sì certo Figurati Cioè tutta la gente Che ovviamente Ha produzione di questo tipo E sono lavoratori Che vanno rispettati Esattamente Come altri settori Anche Ecco quelli della carne No Cioè loro vedono Come minacce Invece che magari Come potenziale investimento Cazzo investo io Sulla carne coltivata Magari No Vedono come minacce Tutte queste cose No Quindi ah no L'alcol E li votano È ovvio Che sono voti questi Che fanno di interesse Eh certo Sono lobby eh Regà Tra i lobby più potenti Che non girano intorno All'interesse In ambito politico Eh funziona così Sì Eppure Ahimè è abbastanza scontato Vedi l'etichetta simile Poi per quello Poi uno non ci crede Quando senti Qualsiasi tipo di roba Perché sai Sai sempre che c'è Un interesse Personale dietro Non un intento Buono Magari pure che finanziano Le campagne elettorali Dei vari partiti Ma non so se Può essere pure Anche la luce del sole Non deve essere per forza Una cosa Sì 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 Però ovviamente Uno quando deve Pianare a decisione Piuttosto Infatti vedi C'è una ragazza Sarai un attimo Che ha detto Tra l'altro Questa cosa qui Delle etichette L'hanno applicata solo Non ho capito Se in Irlanda In Irlanda E come al solito Montano Questa è come una roba Sul politicamente corrotto Cioè che creano Un problema che non esiste Perché c'è il nemico Immaginario No? Ah l'Europa Che voleva imporci Di mangiare Gli insetti È la stessa roba Vogliono toglierci La carne E come uso Sta cosa Per poter fare I classici discorsi Che mi portano Consensi Queste per me Sono condotte criminose Mi dispiace Mi guerrerasse Lollobrigida Però per me Ma è lui Lollobrigida È lui Lui Ma mi immaginavo Tipo una che faceva Gina Lollobrigida Brigitte Bardot Bardot Tipo una che faceva Come si chiamano Quelle che alzano Le gambe Quelle che ballano Le maciorette Eccola Simo Eh Tipo sì 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 Vabbè la gran fregna lei Eh Sava il ministro Magari Come si chiamavano Quelle che facevano Quella cosa Cosa Le subrette Quelle Le ragazze pompone Quelle ragazze Nei film americani Che si mettono Negli anni cinquanta Tutte in fila Con il gonnone No quella Tipo le candy girl Quello è un ballo francese Quello che alzano le gonne Ah burlesque Dici tu Burlesque Trovate Burlesque Vedevo una foto vecchia È fredda Cancan Che cheerleader È morto È morto Le ragazze cancan Il cancan Ma stava pure in qualche trasmissione Sì ma è una cosa proprio Che facevano pure Di che trasmissione erano Le ragazze cancan Che è un termine che io tipo Non ho mai utilizzato in vita Forse mi nonna Perché cancan poi È un tipo di ballo Questo coso Ci vede le gomme alzate Colpo grosso Non lo so Non lo so Poi è una cosa americana Mi pare che la facessero Mi ricordo in Francia Tipo Cresci in buon Cresci in buon Cresci in buon Con i gongoli croccanti Che sono tanto appetitosi Tuoi schiacci e fornarelli Che è gustosi Fagolosi Stuzzica l'appetito E la fantasia Bellissima Fatta molto bene Finchia Comunque Veramente Lo dico sempre Ma quanto trovo preoccupante Il fatto che ogni giorno Migliorino queste cose È assurdo Sarà sempre meglio È sempre Mamma mia Stuzzica l'appetito E la fantasia Oh Allora Io ho scritto Impropriamente sotto questo post Tocca diventare papa Esatto Però non è king Secondo me È emperor Nel vero senso Che cos'è Non l'hai visto? Prego Gianluca Il piediluvio col bacino Ma da quando Il papa Poi in una coppa d'oro Stavamo a parlare prima In realtà da parecchio Però vedi Belli poi sti piedi Ptsm il pop Hai capito? Comunque Guarda che bei piedini Non ti resti dai facce Niente male Dalla cortellata Comunque devo dire Cazzo di canzone pure Sottofondo clamoroso Sì Per fatto E bacia i piedi È perfetto Capito? Il papa che te bacia i piedi Ma che è? Vabbè perché È alla Cristo È come che è che è Come che è Anzi come come che è Ma è una cosa curiosissima Io non pensavo Che esistesse un'usanza del genere Ammazza Cristo che lavava i piedi Baciava Non hai mai sentito parlare Della lavanda dei piedi De Gesù Cristo Comunque il papa Ognuno c'è i suoi kink Magari gli piace bacia i piedi Alla fine E il papa Io lo fai fa Che fai? Ovvio Vabbè simboleggia Ovviamente Prossimo C'è il vero party Facciamo Eh? Facciamo come si chiama? Fatti che sei il duca Il pediluvio Però a me fa un po' schifo È più per voi Ah è vero Lo facciamo fa Marco Merrino Dai Poi dipende chi Dipende quali i piedi Per carità Però a tutti Perché è un atto Diciamo Di umiltà Cioè Comunque Immaginate Loro mi sembra Se non sbaglio Tre volte fanno Dei carcerati O delle carcerate Noi sono carcerate Comunque Alla fine È un messaggio Cioè Magari Per persone Che probabilmente Magari stanno Passando un periodo De merda Sembra una cavolata Però vedete Il papa Che te bacia i piedi Potrebbe essere Una cosa che Sì certo Te dà Voglia di cambiare Sprint E dice io In teoria Io che sono L'ultima della terra E' una bacia E' quella La cosa Pure quando Lo fece Gesù Lui mi pare Che lavò i piedi Agli ultimi Proprio Ai lebrosi I criminali Mi ricordo la Maddalena Solo Però magari L'ha fatto pure Lebrosi Un atto Non di sottomissione Ma invece Di apertura Per dire Io non Non sono su un altare Fatiscente Ma arrivo a fare Un atto umile Nei confronti Di quelli Che vengono definiti Gli ultimi Che bello Per questo lo faremo Anche noi Baciano tutti i piedi Delle cerberine Assolutamente Perché tu In teoria Hai davanti Una persona di potere Il papa Che si spoglia Tra virgolette Del suo ruolo Per fare una cosa Che viene vista Dal mondo crudele Come Una sottomissione Ma in realtà È un gesto Di appianamento Come stavate A di voi Siamo sullo stesso piano Però E per un carcerato Che vede Magari appunto Il papa Che te baci i piedi Può significare Allora sì Posso ancora Avere speranza Sì Non so l'ultimo Apriamo un dibattito Su questo però Sì Stimolante Secondo me Ad oggi Questa cosa Ha ancora Lo stesso effetto Lo stesso effetto Di cui parliamo Non l'effetto Che diceva pure Marco Cioè cavolo È il papa Che sta baciando Dei piedi Ma L'intento Del Cristo Cioè essendo comunque Un atto Che noi abbiamo visto Nel corso del tempo Non è comunque Canonico Non avrebbe più senso Fare qualcosa Sempre per dimostrare L'assenza di distacco L'assenza di distanza Di piani Di importanza E di potere Ma diversa da questa Che comunque Rientra in logiche Già viste Secondo me Quando non ci stupirà più Perché comunque Ho visto ancora C'è tanto stupore Ovvio Però che ne so Una cosa Mai fatta da un papa Nei confronti Degli ultimi Magari avrebbe più effetto Perché uno potrebbe dire Vabbè sì Ok ma tanto L'abbiamo visto da sempre È una cosa classica Della chiesa Magari ci credo anche meno Se lo vedi troppe volte È chiaro che Avrai poi Cioè quello del Gesù Era autentico Sì ma non che questo Non lo sia Però magari Il fatto che magari È stato ripetuto Così tante volte È ovvio Poi una cosa Diventa un rumore bianco Esatto Più liturgico Però io credo che Già ai tempi Cioè quando lo fece Gesù Era rivoluzionario Quello sto a dire Assolutamente E cioè È rivoluzionario pure Se vuoi Il fatto è che Abbiamo tante più Informazioni in testa Credo che Ti ci devi fermare A pensare A cosa simboleggia questo Se no È semplicemente Un tiktok Da commentare E passare alla prossima cosa Eh però Secondo me Per papà che baci i piedi XD Lo condivido Ha ha E vado avanti Sì Quello che dico io Infatti è Il fatto comunque Che sia stato ripetuto Nel tempo Non lo rende un po' Un A parte Il fatto che faccia ridere Un po' White noise Eh però Che tempenti A me piace Perché è una cosa Di cui non hai bisogno Di pro Alla fine Cioè tu puoi baciare Virtualmente i piedi Di chiunque Non hai scuse Per non farlo No Non è che ti devi inventare Cioè ti dovresti inventare Comunque un gesto Che puoi fare In modo semplice Ovviamente Con il corpo È un bel simbolo Paragatutismo Sarebbe figo No Secondo me Grazie Invece Invece De baciarsi i piedi Con ognuna di questi Dove andare su un elicottero A buttarci Insieme Sì Che ne so Ci vedi Alla Allucinio Allucinio Lo stai calmo Ma che c'entra Allora anche l'ostra Sono gesti liturgici Stai calmo Sto dicendo un'altra cosa Non sto dicendo Che non vado bene Sto dicendo Per creare un effetto forte Come quello Insomma Che troviamo Nel Nuovo Testamento O Gesù Che faceva Insomma Il pediluvio Agli ultimi Avrebbe più senso Secondo me Fare qualcosa Che tra l'altro Alcune cose Le ha anche fatte lui Poi Certo Quante sono Per propaganda Quante sono Però a noi che ci frega Alla fine Un messaggio Non così Reiterato nel tempo E che si stacchi Dall'appunto Liturgia Dallo Dallo stereotipo Che noi già associamo A questo scenario qui Ma qualcosa Che veramente Ribalti tutto Cioè Che sia un nuovo messaggio Non la reiterazione Di un messaggio Giusto Ce l'ho Canonico Vai Il papa si spoglia Completamente nudo Il re è nudo E fa vedere Che è una scimmia Cioè che è proprio In tutta La sua verità Porca troia Sì Clamoroso E tutti ci spogliamo Nudi Assieme al papa Perché lui Essendo un vecchio Solitamente Ci toglie la vergogna E torniamo al giardino Dell'Eden Che io Vi ricordo anche Che si dice Che l'uomo Ha iniziato a stare male Appena ha provato vergogna No Che si è reso conto Che era nudo Con le foglie E doveva coprirsi Con la foglia di figo Sì E quando è passato Da uomo animale Cioè è un simbolo Che vogliono dire Che a un certo Cioè prima eravamo Più istintivi Poi a un certo punto Ci siamo resi conto De Il costrutto sociale Esatto Sì Della reputazione Del sentimento Della vergogna Della nudità Che è una cosa nuova C'è stato questo shift Che non hanno gli animali Ovviamente Esatto E dovremmo tornare A abbracciare Il lato animale Di cui ci vergogniamo Essenzialmente Cioè la fai proporre Roba non oscena E vedi però Qua sbagli Perché sarebbe È proprio il fatto Che la reputio oscena Che la rende Forse D'effetto Perché come dice Davide Ormai Sta cosa De bacia i piedi Ha perso Il suo effetto Magari Questa roba qua Ai tempi Secondo Il nuovo testamento Sarebbe stata Sarebbe stata Sicuramente Venne reputata Oscena Sì No Cazzo che stai a fare Soprattutto magari dai seguaci Oddio Poi là Si andava in giro scalzi Comunque C'era delle condizioni Con il sandalettino Buttato lì Invece guarda Ovviamente È una roba assurda Però È quello che Cioè Hai risposto alla mia domanda Sarebbe un gesto Con un significato nuovo Completamente Distruttivo Di tutto quello che Che comunque È un messaggio spirituale Quello che voglio far capire anche E infatti La cosa che io dico sempre Se ci pensi Anche sui loro outfit Anche quello Secondo me Crea Un grado di separazione Gigantesco Allontana Cioè Lo spogliarsi del Papa Magari Può pure rimanere in mutande Se le fa vedere il cazzo Se proprio Anche se secondo me È come dici tu Avrebbe più senso Però anche Lo spogliarsi Di questa roba qui Cioè Se il Papa Magari Dicesse Anche ai suoi vescovi E lui in primis Basta metterci sta roba così Dovrebbero farlo Quello ha fatto con loro lui no? Esatto Quello che dicevo prima Che separa Infatti quello Quello già era stato Un bel gesto Che è simbolo Proprio della Della corruzione Che la ricchezza Ha portato Infatti dovrebbero spogliarsi Tutto quell'ordine Quello anche Diciamo Spogliarsi Non solo dalla ricchezza Che come ha detto Gianluca Anche ripeto Lì in termini Magari più Propagandistici Che effettivi Perché comunque Il Vaticano Dei sordi Ce n'ha per fare 2R Però Ovviamente Sarebbe Uno spogliarsi Proprio di tutti Di tutte quelle Suppellette L'inutili Di cui il Santissimo Non ha bisogno In teoria Noi usiamo anche Quindi quello Gesuita pure I gesuiti Sono molto più Seguendo proprio Infatti lui Rispetto ad altri Rispetto a Ratzinger È molto più Sobrio A me infatti E' più sobrio E' più sobrio Poco accettato Da tutti Cos'è fatto Vede subito Come uno Del popolo No? Per dire così No? Fin dal giorno 1 Io me la ricordo Sta cosa Sì 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 Poi Ripeto Aveva subito Adottato Uno stile Un po' Diverso Per farse vedere Poi le conseguenze Più umile Sì 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 Poi secondo me Come nuova figura Sì Io poi lì Cerco sempre Di distinguere Anche i messaggi Dagli atti Nel senso che Si è venduto bene Anche per andare In forte contrasto Col suo predecessore Cioè Ratzinger Che invece era molto più Visto un po' così Beh era molto più Diciamo Conservatore A tutti gli effetti Cioè Era una persona Incredibilmente colta Ma Comunque Con Una Visione dogmatica Al 100% E Lui Andava sulla linea Dei dettami antichi Della chiesa Quindi Non avrebbe mai detto Anche piccato Con le cose che ha detto Lui sui omosessuali Mai nella storia E comunque Aveva Aveva perso La chiesa Molti consensi Tant'è che poi C'è tutta la teoria A quale io credo Al 100% Che l'abbiano fatto Di mettere Per mettere Un volto più funzionale No Quindi I gesti di dire Magari mi levo gli ori Aspettiamo che muore Infatti Ancora vivo In passato Abbelenavano In passato Li abbelenavano Insomma Se non facevano quella cosa C'è stato Ancora razzi È morto Ma dopo aver Lasciato l'incarico Da Papa No no Ratzinger è morto E quando è morto? Eh due anni fa No no È morto Ma è morto Non sapevo Se è morto Diciamo che è morto Non da Papa in carica Pensavo che stava ancora In panciolle Ah ok Mi dispiace Non lo sapevo E quindi Ovviamente Io questo non lo so Chiaramente Ne posso fare Il processo Alle intenzioni Al Papa Non lo faccio manco Su Manux Figuriamoci sul Papa Però chiaramente Non è solo il Papa C'è una struttura Di un certo tipo Che è la struttura Di una Teocrazia Fondamentalmente Cioè di una Scusami Di una Di uno Stato Che ha un monarca assoluto Di una monarchia assoluta E quindi Ovviamente Ci sono molti interessi Anche economici Non so poi Nell'effettivo Quanto Il Papa Realmente Si mobiliti Per fare Determinate cose Anche in termini Economici Però ecco Quello che diceva Simone Secondo me Ha molto senso Perché sarebbe un gesto Veramente di rottura Come fu Ai tempi Quello raccontato Nel Nuovo Testamento Di Gesù Sì Sì Anche Teocrazia Si può dire Però vabbè Io intendevo Perché monarca assoluto Ovviamente È il Papa Chiaramente Comunque Comunque ecco Erano 12 donne detenute In un carcere di Roma C'è una profonda Verità Spirituale Nel Nel fare Gesti Che dicono Io non so Nessuno Estrema umiltà Esatto Gesti di estrema Umiltà A servizio Del prossimo Perché Poi Te devi pure accorgere Di quando li fai Come ti senti Lì cambia pure tutto E come fai stare Gli altri La gaffa del premier Libanese Scambia Giorgia Meloni Con la sua segretaria L'ho visto ragazzi Ma è uguale però L'audio non c'è No non c'è Grande Giorgia È tipo Saddam Hussein Che c'aveva tutti i cloni Giorgia Meloni Ma non è lei C'è via troppo Assurdo Ci si dettici i capelli Il sorriso Cioè Sembra tipo Ha salutato la segretaria Come premier italiana E viceversa Quindi Non lo so Forse qua Gliel'hanno detto Guarda che lei Quella vera La saluta De due Ha detto Amore Io nel dubbio Saluto pure questo Madonna Ma siete quella vera Cazzo però è vero Cioè sembrava fatta apposta Alta uguale Stessi capelli Ah no Il contrario Era la segretaria Della Meloni Ok no scusate Ho capito male Pensavo alla sua segretaria Infatti dico E che ne so Biden sta a sti livelli Ma non è Biden No ho detto Biden Sta a sti livelli Quindi non me ne sorprenderei No no vabbè scusate Però appunto è Corona Che fa critica E la grazia della sovradonna Che fa in moda Sono rincoglionito io Si è fatto i stessi capelli Della collega Del capo È uguale Non è la sorella Boh c'è scritto sanitaria Credo È sempre colpa nostra La prima che dovrebbe scendere Ma sti cazzo La rega Ma una gaffa così Che fa ride Innoqua La prima che dovrebbe scendere Il presidente Vedete pure questi Sono diciamo Meccanismi di potere Si Ovviamente Sono regole Di potere Per esempio una volta Tu mi raccontassi Una cosa molto simile Anche nel nostro contesto Cioè che tipo L'intervistatore Deve sempre far sedere l'ospite Si E poi sedersi Ne talk show americani Il presentatore È quello che si deve sedere Per ultimo Eh perché ti invita A sedersi Poi alcuni Sono proprio comunicativi Cioè nel senso Ti siedi Sono io che ti dico Di sederti Sì ma l'ho capito Effettivamente Perché tu magari C'hai un ospite Che presenti Sta entrando Mara Venier E la fai accomodare La accompagni Certo Levi lo zoom No? Levi lo zoom No? C'è un mar de schiena C'è un mar de schiena Mamma mia Non c'era Per un levano zoom Per un levano zoom E me devo arciar in piedi Non c'è quello digitale Se c'è l'ospite in piedi No? Eh E poi fai l'ospite Che c'è un mar de schiena Devo fare tutto Come faccio? Fai l'ospite Fai l'ospite Un attimo qua Come fa Shai? Secondo me se facevi senza zoom C'è Shai se siete prima degli ospiti? No se devi vedere l'ospite Capito Ecco Vai là E fai tipo Tipo qua Fai tipo che stai sieni Vabbè ma l'abbiamo capito Abbiamo ospite Abbiamo ospite Marco Chitano Qui E mo fai tipo Che stai sieni dopo Ma non sei sieni Ok abbiamo ospite Marco Chitano E siamo qua E siamo qua E allora Come stai Marco? Come stai? Tutto bene? Tutto bene Allora All'altro posto Perché? Ok Mo famo la cosa Che Alzate Alzate no? Alzate Io sto seduto È brutto C'è sta la dinamica Che te stai in alto Io sto in basso Io ti devo Io ti devo far accomodare Capito? Accommodati Marco Vabbè fatevi una pompa No comunque Ovviamente Sì sì Queste sono piccole dinamiche Poi tra virgolette Di potere ovviamente Nel senso che in questo caso È funzionale Come dici tu È anche Ci sono anche regole Comunque che magari Sono all'interno Del buon costume cosiddetto Dell'educazione O sono funzionali In questo caso è Una regola Non scritta Funzionale Cioè tu lo accompagni E quindi È per il lavoro Che devi fare Esatto Cioè tu lo presenti Lo accompagni Finché non si siede E poi è come Apri la porta Ad un ospite In casa tua Apri Lo fai entrare E chiudi Certo Esatto Capito Bravo Chiudi la porta Eh capito Sì Esatto Esatto Poi È per Bello fa le dimostrazioni Comunque alzasse un attimo Fa qualcosa Tanto pensi Un attimo rischardasse le gambe Ma sì Ma poi Alcune Sono anche Se vogliamo Sensate Però si ritorna Sempre al discorso Del costrutto sociale Queste sono tutte regole Che abbiamo Creato Nel corso degli anni Modificato Adattato Diciamo Alcune anche rimosso Nel momento in cui Si è creata Una piccola collettività No? Invece l'animale Non ce l'ha Sempre per il discorso Della nudità No? Sì Il bontopo Proprio le buone maniere Sì Poi appunto Alcune magari Secondo me è un po' troppo C'è proprio Il fatto stesso Che serve al Galateo Cioè Galateo bravo Sì cose come il Galateo Stavamo a dire Pensai che era proprio la regina Tipo che doveva scendere per prima Secondo me quello Lo vedo come un Dobbiamo distinguerci Il più possibile Dagli animali Infatti il Galateo Non è mai stata Dalla plebe là Era più che gli animali Eh Che so gli animali Comunque Cioè nel senso i ratti Sì No? Poi inizi pure Se diventi così separato Proprio quelle persone Tanto separate E quindi tanto in loro stesse Ci metti un attimo A vedere una categoria di persone Come feccia Come animali Eh Nel senso Gli animali Anche Basta vedere uno che magna Che mani Guarda che spesso ad alcuni Basta vedere già qualcuno Che magna Che mani E che se Guarda che animali Ma non ti vergogni No Porco due Io pure Ecco Io da ragazzino Che ne so magari Mi mangiava la cotoletta Che mani No? Io le bistecche Certo Eh No devi usare il costellino Ma ci metto tre ore È molto più pratico così Stappare la carne con i denti Capito? Che è pure meglio pulir l'osso Sì Poi ci sono tantissime culture Che mangiano così E sono state viste come Sotto sviluppate da altre culture Solo perché mangiavano in maniera diversa Alcune volte Esatto Ma infatti è anche La differenza dei costumi sociali No? Sì sì Per costumi sociali diversi Se pensate per ruttare a tavola Ma anche la gestualità Cioè Alcune cose Sono tranquillamente accettate In alcune culture E altre sono l'opposto magari No? E È verissimo il fatto del distacco Con la creazione di alcune regole Anche i vestiti Baralmente Cioè Nel momento in cui L'abito È diventato Oltre che uno strumento Per ripararsi dal sole Dal freddo Cose che hanno anche gli animali Ovviamente Nella loro struttura Solitamente Noi non abbiamo queste protezioni Se non i peli E quindi dobbiamo ovviamente Usufruire di Esoscheletri No? Però All'inizio erano funzionali Erano funzionali e basta Ok? Quindi se mettevi la pelliccia Dell'animale ucciso Per non morire di freddo Ma puremo uno che magari Che non c'è nulla di male Perché poi uno Parli male No Però una persona che magari Usa tanto Tante delle sue risorse Per investire Sul proprio cuscio Per essere il più unico Il più diverso Dagli altri Si può fare Sia in modo sano Per carità di Dio Però potrebbe anche Uno potrebbe ovviamente Anche farlo Per insicurezza No? Per costruirsi Questa sorta di armatura Come in Dark Souls Te fai la tua personalissima Armatura Che non è altro però Che la tua campana Se vogliamo Sì ma infatti No non siamo dei sociologi Boss Semplicemente Sono comportamenti Che in realtà Io sono un sociologo Mancato Ad onore Cioè semplicemente Dei comportamenti Che si possono osservare Nella storia Cioè Prima si parlava Di aristocrazia No? Le regole Che Ai tempi Vennero create Per distaccarsi Di staccarsi dagli insetti Dalle bestie Dagli schiavi Dagli ultimi No? E c'erano magari Le parruccone Quelle classiche Gli abiti costosi La pellicciona Al di là della casa No? Quindi la tenuta gigantesca Che era In alcune cose appunto funzionali Cioè la dimora Magari più lussosa E poi si andavano Nello sparso Oggi che facciamo? Lo stesso Poi diventa che Se hai quel tipo di capo Dimostra qualcosa Certo Ma infatti Il trucco di un certo tipo Per esempio Una volta La bronzatura Era una roba da schiavo Perché dovevano stare Sotto i campi A lavorare E quindi invece Addirittura si truccavano Di bianco Per sembrare ancora più nobili Le parrucche di quel tipo Cioè Sono tutte quante Delle corazze Che ancora oggi esistono Ma non solo Nell'esempio massimo Vabbè Prendi L'emiratino Che ha 70 case Banalmente Il tizio Che se vuole Comprare Rolex Per sentirsi migliore Dell'altro Sì A parità Magari Di tenore di vita Uno dei due Però sente La necessità Di comprarsi Quella cosa lì Perché quello È uno status sociale Indipendentemente Poi da Non è un discorso Di passione Lo facciamo sempre Ma se io ho la passione Perché io non ho Non sto parlando Di quei investimenti Quello dicono Che è un investimento Le vado a sta roba Chi Utilizza questa roba qui Che sia il capo di marca Che sia la macchina Che sia il Rolex Che sia Quest'altra roba qui Lo fa Chi lo fa In questa dinamica Qui lo fa Perché vuole Creare un distacco Cioè Mi presento già Con qualcosa Che mi Rende superiore Perché quello è I vostri sub Ce l'ho al polso Quella è una roba Esatto Comunemente Diciamo che c'è Per questo ti parlava Di costrutto Sociale Comunemente La gente sa Che questo ha un valore Quindi io Per loro Mi alzo di valore Anche se sei una persona De merda Sì sì E si gioca tutto Su quel piano Che non si vede E anche quella Che è la cosa Che è proprio Rigetto Il Samsara Proprio quella cosa Della reputazione Della percezione Della fama Tutte queste stronzate Che ci governano E invece comprarsi Una Ah invece Comprarsi una telecamera Da 4K Va bene Ipocrite Mi fa rite Perché poi Di volta Che uno parla Di queste cose C'è la gente Che si sente attaccata No Ma sì Appunto Magari è troll Però quello che dico Anche qua Se uno si compra Rolex E se lo vuole Metto Un bel labio Non è che Perché si dovrebbe Sentire attaccato A sto discorso Non ha senso No È ovvio E soprattutto Il fatto che uno Dica queste cose Non è che Ci auto esclude Dall'equazione Pure noi ci siamo comprati La maglietta Più carina Per essere Più figo Dell'altro Una comitiva Non è che siamo alieni Basta È importante Riflettere Il rapporto che hai Con le cose Che hai L'illusione Di avere Perché tu non hai In realtà niente È come sta bottiglia No immaginate Che c'è questa bottiglia Abbandonata qua Quindi non è di nessuno No Eh E c'è una E quindi Noi che sappiamo Scimmie Che non è di nessuno C'è un alone Poi arriva uno Autoritario E fa Questa è mia È la stessa bottiglia Di prima Però Psicologicamente La percepiamo Diversamente Ve ne accorgete Di queste cose No O no Perché tu senti Sia lui che la vuole Sia il fatto che Rispetto a prima Tu non la puoi prendere Magari Anche se non la volevi Per te Non volevi appropriartene È proprio Dobbiamo capire Come rapportarci Con le cose Che percepiamo Come nostre Innanzitutto Percepire Che non sono nostre Veramente Che noi vogliamo Tanto che lo siano Non lo saranno mai Ed è uno spreco Di energie E un sacco di gente Deve capire Che è un meccanismo Di identificazione Cioè tipo Tu non sei la tua macchina Per molti È tipo Ok Sì Lo so che non lo sono Però se la tocchi D'ammazzo Stai calmo Tu non sei la tua macchina Le tue cose Non sono un'estensione Di te E quindi del tuo ego Questa la gente Deve capire Non smettete Di comprare una cosa Ma smetti Di averci Quel rapporto lì Che ti fa del male Mi piace La macchina Chi ti è stato Di niente Esatto Tyler Darden È la perfetta citazione De Palanuc Ma infatti È quello il punto Cioè Quelli che ci hanno La coda di paglia Sono quelli che devono Riflettere più Quelli che si sentono Toccati Ma io il Rolex Ma l'ho comprato Perché era un investimento Tutte giustificazioni Sono i primi Sì Però il fatto è questo La sicurezza Che uno vuole Fittizia anche quella È come la finzione Dell'avere Se è vero Sicuramente Se è vero E nel tuo animo Pensi davvero questo Non lo vieni a scrivere Perché stai tranquillo No Vivi la tua vita Capite È una cosa tua Dici sì È un mio investimento Come può essere Nel corso De Luca Valori Cioè Ognuno fa il suo No C'è sta Investimento in immobili Cioè non è quello Però Appunto non è la tua Identità Non te rende Cioè visto Parlando semplicemente Il discorso era che Per alcune persone Si sentono una persona Migliore Finalmente realizzata Finalmente superiore Degli altri E questo è sbagliato Soprattutto Se ne renderanno conto Quando l'hanno comprato Che in realtà Non è così Magari Prima di comprarlo Pensano che staranno Superiori Dal momento che Ci avranno un Rolex Da 40.000 euro Perché ragionano Che se stanno a fianco Una persona con Rolex Da 40.000 euro Quello è superiore a lui Ma è tutta una cosa Nella vostra testa È quello che vi vogliamo dire Non è che Hai fatto male a comprattetelo Poi se te fa felice Fa quello che te pare La macchina da 300.000 euro Che te indebita Fallo E delle camere Noi ci lavoriamo Comunque è diverso Ma sì Ma manca giustificarsi Cioè anzi Più costano più durano Anche sul discorso stupido Che poi tra l'altro Non dovrebbe essere messo Nell'equazione Il discorso Quelle delle camere Fortunatamente Tipo non c'è quella cosa Che so de qualcuno Fortunatamente Diciamo Sono anche vostre Banalmente Che state a casa Cioè alla fine Ma soprattutto È un strumento Ma sì Ma poi C'hai scubito Non hai abbandonato un giorno Rendemose conto È una queen assoluta Sta videocamera Ma Al di là Se la troviamo Un giorno per terra Spaccata Uno ci rimane male Ma che c'entra Ma quello è un danno effettivo È un danno lavorativo Ma come se troviamo Ha avuto Un danno Personale Ma pure È emotivo C'è gente che trova Magari la macchina Rigata Neanche rotta E gli viene un'ulcera Si sentono male Perché tu ti attacchi Da solo Perché pensi Che la macchina Sei te È come se avessero fatto Diciamo Uno sgarro Al tuo petto Poi è ovvio Che te roto il culo Non è che uno sta Dio C'è una macchina rotta Dai Tipo a me non me ne Deve un cazzo Per esempio Però se esco fuori Mi trovo una macchina Trifolata È ovvio Che me ce roto il culo È ovvio regà Però magari Però sai qual è la differenza Se c'è roto il culo Dipende da te Però sai qual è pure la differenza Che magari Se mi riga una macchina Io potrei non accorgermene Eh sì sì Se non te ne accorgi È chiaro Ma perché non me ne accorgo C'è un motivo Perché non ho quella cosa Che stiamo a dire Ah certo Capito Non è quel tipo di morbosità Esatto Magari ne manco me ne accorgo Se uno mi ha da una sportellata Mi fa un bozzo Io non me ne accorgo Gianlui Immagina se avevi risparmiato Tutti i giorni che ci avevi Ti hai rifatto un finanziamento E hai comprato una macchina Da 200.000 euro Che costa quanto una casa A quel punto Staresti agitato tutta la vita Io c'ho amici mia Eh ma quella è una conseguenza Stanno lo stesso livello Del Rolex Non la prendono la macchina Perché l'hanno pagata così tanto Che la tengono in garage Poi vengono col bus Che cazzo te la sei comprata Fai quella maglia L'Audi A3 Perché te lo dico io Perché Consuma troppo E quello è il senso La tiene in garage La tiene in garage Esatto No dirlo a te stesso soprattutto Dirlo agli altri Ma allo specchio E' quello il dramma Cioè è ovvio che se Arriva Un problema Un danno Ad una tua proprietà Tiro del culo Cioè mi sembra il minimo Però il fatto è questo Che Se addirittura Arrivi ad investire Così tanto Come dicevi tu Anni della tua vita Tantissimi soldi Energie mentali Per una cosa Significa che Non è semplicemente Un vezzo Una cosa che ti piace O un investimento No è qualcosa Che tu compri Per raggiungerla Al tuo io Sì un arrivo tipo Sì Simboleggia qualcosa Cioè io l'ho comprata Ho avuto questo risultato Adesso la posso anche parcheggiare Poi in certi casi Non è per forza dannoso Però l'importante Appunto è rendersene conto Poi tutti Tutti noi Siamo schiavi di queste logiche Quindi E' inutile il suo discorso Idiota Dell'ipocrisia Poi se proprio vogliamo far Tra noi quattro Ci metto pure Dave Cinque Insomma Siamo proprio gli ultimi Che sperperano Sordi a destra A manca Attaccati ai marchi Sfizzi le cose È ovvio Ma quello è umano Però non siamo Dei consumisti Capito Incalliti Capito Tipo magari Esatto Tipo Guarda io ti dico Proprio una cazzata No Però è una cosa mia La mia passione Per i crudi Sì Io mi ricordo Quando ero piccolo No no Quando io ero piccolo Lo ricordo La prima volta Che ho mangiato il crudo Era proprio Un posto Di un ristorante Do conoscevami Zio E quindi Ci facevano lo sconto E quindi Tu lo potevi Permettere Quando sono arrivato Al punto Di poter andare Al ristorante Con i sordi Mia E mangiamo il crudo Lì ho avuto Una soddisfazione Quella si Pazzesca No Ma infatti Vedi che Però non è che Il crudo E' una cosa Che mi appartiene Oppure è una cosa Che ne so Che deve essere Un motivo De Vanto Tipo il Rolex Quelle so cose Che ognuno C'ha Che so cose Che so belle Fin quando Rimangono confinate In te stesso Capito Cioè Sarebbe Secondo me Assurdo Che uno Uno va a mangiare Crudo Magari Per Fai La foto E poi Magari Lo lascia pure Ne manco Gli piace Però deve Far vedere Che sta Spendere Tanto Capito C'è Un'enorme Differenza E c'è chi lo fa Una triste realtà È che A sterilizzazioni Ci arrivi Quando Ti togli Degli sfizi Quando capisci Che magari Riesci a comprarti Quella cosa Che hai sempre voluto E non Ti risolve un cazzo Certo Cioè Devi un po' Sbatterci la testa Con sta dinamica Se sei ancora Magari ragazzino Hai la percezione Che no Io devo comprare Tu Devo avere Devo avere Tutti Io me la ricordo Quella sensazione Che avevo io Come ci avranno Tanto Devo avere di più Perché non ho abbastanza E ti dici Cazzo Lo voglio pure Però non me lo fanno È un'ingiustizia Perché i miei Stai male I miei magari Non sono ricchi Quindi devo pensarci Io Fallo Fallo Cioè Fai tutto il giro Poi renditi conto Che hai inseguito Una cosa fittizia Noi siamo cresciuti In pieno consumismo Quello più totale Eh perché siamo anche In una società Che ci conferma Ci conferma Pagli anni 90 Ti ricordi Spot pubblicitari Che vedevamo noi Da bambini Che ti facevano Crede che i giochi Erano tutte pubblicità Ingannevole Sì ma l'avevo commentato Ogni cosa era una cazzata Non era vera Te piavano per culo Era una truffa E da ragazzini Mi ricordo che era così Ad altri bambini Che ti facevano Non ti sei comprando il gioco Sei povero Te piavano per culo E ti sentivi una merda Sì E tutto ti spingneva La tv pure Ti diceva che dovevi Comprarti il gioco Se non eri nessuno Perché il figo Aveva quel gioco Cioè erano proprio Dei messaggi orribili Segnano pure se non te ne accorgi E anche il discorso di Gianluca Molti sopportano appresso Pa vita sta roba qua E infatti rientrano In questi discorsi Stanno a fare noi Secondo me Indebitasse Pena Lamborghini a vita È la versione tua Del crudo Però malsana Cioè che lui vuole Il crudo a vita Nel garage però Cioè come ti posso dire Un crudo immortale Sì sì È una specie di contrapasso Se ci pensi però È una cosa tremenda Invece che il Lambo È un limbo Sì sì È un limbo Bellissimo All'imborghini Di avere il bene di lusso È un investimento Vuole avere Rolex Solo perché è un bene di lusso Vuoi sentirti di lusso pure te Ma sei solo una scimmia ingannata Mi dispiace Ho pena No ma Sono vere Entrambe le cose Sia quello che diceva Gianluca Anche sui discorsi Che facevamo Dell'identificazione Magari tu Da ragazzo Hai cominciato A maturare questa voglia Di poter consumare Quel crudo Magari senza Senza la pressione Del succede una volta all'anno E quindi Succedeva a me Mi era successo Tipo una volta Poi dopo Esatto Tipo magari Mi sono maniato Con i parenti Tre quattro volte In tutta la mia vita Come ho realizzato Che potevo annacce Per cazzi mia Magari con la pischella E paga tutto Io Lì è ovvio Che te lo godi In una maniera Che è ben diversa Quella roba è rimasta Dentro di te Esattamente come altri bisogni Simone l'ha detto bene Anche Marco Noi siamo Super vittime Di pubblicità Giga invasive Che abbiamo spesso commentato C'è da dire Che il consumismo Non è finito Semplicemente C'è un approccio diverso Adesso Io ricordo Che bisogna fare distinzione Anche tra il consumismo Che ovviamente È quello americano Che poi è stato Trasportato qua in Italia Quindi in Italia È arrivato intorno Agli anni 90 Effettivamente Metà anni 90 Soprattutto In America Già da prima Anni 80 Regan E cazzi vari Però oggi è un po' diverso Cioè Prima il consumismo Secondo me Creava più distacco Classista L'esempio anche Del ragazzino Io Simone Abbiamo raccontato spesso Di ragazzini Che ci prendevano in giro Perché non c'avevi La felpa di marca Il videogioco La console Cioè lì C'era molto più distacco Tra classi sociali Cioè quelli che si potevano permettere Di comprare il gioco O il marchio O il figlio E quelli che non potevano Permetterselo Ho notato che Negli ultimi anni Invece Questa cosa È venuta un po' meno Perché I beni Diciamo Più importanti Sono arrivati E la vita Normale Cioè Semplicemente Fare la spesa Eccetera Sono comunque Diventati problematici Per tutti Quelli diciamo Medi O non Dall'alto reddito Quindi è difficile Fare la spesa Arrivare a fine mese Comprarsi una casa Addirittura Pagare l'affitto Cioè E invece Paradossalmente È più facile Accedere a questi Beni consumistici Che prima Invece Erano riservati Soltanto ai ricchi Ai figli dei ricchi Per due motivi Uno Secondo me è culturale Cioè comunque I nostri genitori Che più o meno Saranno dai Sessantotto Settanta Settantacinque Insomma Anni sessanta massimo Saranno nati in quell'epoca lì Avevano A loro volta Derivata dai loro genitori Quindi i nostri nonni Una cultura un po' diversa Cioè Si tendeva a spendere meno Per queste cose qui Cioè io mi ricordo Che ne so Mia nonna Che ovviamente Ha dato lezioni a mia madre Si faceva Si metteva da parte Per che ne so Anni I soldi Per comprare la lavatrice E quella rimaneva La vita Ok Cioè proprio Era un lusso estremo Comprarsi una scarpa Televisore Cioè proprio cose Assurde Ed erano Magari anche da parte di mia madre Non erano Diciamo In condizioni economiche Pessime Anzi Avevano un po' di capacità economica Però Non si faceva mai In telefono L'anno Invece Adesso Tutti quanti i ragazzini Hanno il telefonino Tutti Anche quelli che non hanno la lira Perché? Perché oltre al discorso culturale C'è anche un discorso di Facilitazione Nell'accesso A certi beni Che però alla fine Te scammano Esattamente Nel limbo Di cui parlavamo prima Sulla Lamborghini Tu non puoi comprarti Il telefono a mille euro E vabbè Fatte i rate Che ce vuoi Tu lo puoi comprare lo stesso No? Tu non ti puoi comprare La marca E vabbè Ma dai Alla fine Se te compri questa qua C'è lo sconto Cioè In qualche modo Il consumismo è cambiato Cioè adesso Se ci fate caso C'è molto meno distacco Tra i ragazzini Senza una lira E i ragazzini con genitori ricchi A livello di Capi d'abbigliamento Oppure Oggettistiche tecnologiche Certo Quello straricco Se comprerà il marchio Sì Capito La scarpa Che costa 500 euro Però più o meno Diciamo Nelle cose Medie Non c'è sto distacco Che c'era prima In classe mia C'era gente Con due telefonini La console Xbox La console Playstation Tutti i giochi del mondo La macchinina Che potevi guidare Con la patente Del motorino E il motorino Eh io non c'ho un cazzo Magari C'ho la felpa Lons River Invece che Lonsdale No? Che poi capisco Dove sia il problema E allora svegliati Amore mio Se non lo capisci Si svegliate E poi sono tutte cose Che ora sono impolverate C'ho tutte cose Degli anni 90 Magari tipo in cantina Quella è materia Tutta sprecata Alla fine Che andrebbe Non so Smaltita In qualche modo Tutto quello che compriamo Cioè io inizio a vedere Che tutto quello che compro Che dici Ciò che figo Tra poco Neanche troppo tempo In vista planetario Sarai in una discarica A riempire una discarica Che sia Un Funko Pop Quegli oggettini di merda Che dici Che carino Ci siamo drogati Proprio come umanità Di consumismo Credo Siamo entrati Proprio a rota Di quel meccanismo là Ci stiamo accorgendo Magari sempre come umanità Piano piano Che forse Non è il modello Migliore Secondo me ha trovato Nuova forma Quel consumismo Perché Stiamo con Amazon Mi sta venendo Anche quello C'era pure un ragazzo Che aveva scritto prima Il discorso del possesso Delle cose È molto antico Sì Ma infatti Eh no Cioè dobbiamo fare Un discorso gigantesco Però sulla proprietà Però qual è il fatto Il fatto è che Prima Si è così scontato Avere una cosa Perché stavo ancora Dopo 3000 anni A parlare Se esiste o no La proprietà privata Perché secondo me Per ricollegarci A quella frase lì Fa parte in realtà Perché la proprietà privata È una cosa psicologica Comunque Sì però Uno deve sapere Che là è il mio posto E tu non puoi entrare Non è una cosa Nel senso È mio In quanto mi appartiene Ma è più una cosa psicologica De sicurezza De safe zone Certo Capito Quindi è un po' diverso Magari dall'oggetto Quello deriva Perché abbiamo paura Cioè tipo Ma uno zide Va bene L'oggetto è proprietà personale No è che è questa la cosa È un inganno Il fatto che uno deve Avere uno spazio Perché non ce l'hai effettivamente Tu hai un foglio Che dice che è tuo Ma All'effettivo Se arriva a uno Più grosso di te Te lo prende Guarda la striscia De cazza Ma sì È come un'illusione totale Cioè il proprietario De casa mia Che c'è vivo io Che sono io Che pago l'affitto Quella è casa sua Perché Non lo so O gli hanno dato il genitore O se la sarà comprata Per carità Ma è sua Perché lo dice In foglio di carta Lui fisicamente sta Magari dall'altra parte Del mondo Riceve i soldi mia In un contratto In cui Civilmente Noi Ci mettiamo d'accordo Che io te do sti soldi Di pesta qua Ma all'effettivo Poi è il discorso Che fanno magari Molti immigrati All'estremo Ovviamente Quelli che occupano casa Di cui si lamentava Canepazzo Lì è ovvio Che sono ignoranti E dicono Io resto qua Perché è casa mia Ma la maggior parte De fine non sono Manco i immigrati In certi quartieri Quindi non è neanche Però appunto Il discorso È più ampio Sul concetto stesso Di proprietà privata Io mi sto a pagare La macchina a rate Ad esempio E quella macchina Diciamo È mia Perché è stata pagata Da una banca Che mi ha anticipato I soldi a me E io mi sto a ridare I soldi alla banca Però capito Cioè sono tutti Sono cose per cui Ci mettiamo d'accordo Tra scimmiette Però effettivamente La macchina La guido io E me ne vado Dove cazzo vuoi Non so come spiegate Capito È più un discorso Il discorso Che faceva Davide Era più sul fatto Che comunque Cioè sempre Cioè pure se comunque Le fasce più povere Comunque se illudono De non essere povere Magari coi finanziamenti E quindi Se mantengono Se crea quasi quella situazione Dove non ti senti povero Perché sei abbonato a Netflix Eh C'hai le cosette C'hai la tv Che hai preso col finanziamento Però sei indebitato Quello sto dicendo Infatti è lì che è cambiato Il consumismo E il meccanismo del potere Un nuovo iphone all'anno Perché io non lo capisco Perché vedo delle situazioni Veramente povere De precariato sociale Tremendo In certe famiglie Ma pure su TikTok Vedendo le loro storie Che magari c'è il marito E la moglie Che si tagliano Il braccialetto E sono appena usciti Da carcere E festeggiano Però ci hanno tutti In una famiglia Di 10 persone Tutti l'ultimo iphone Da 1500 euro Che fai dopo pure comprare Ma io non capisco Come dopo permette Che motivo ce n'hai È quello che stavo a dire Perché prima Ste cose non le comprabi Come i nostri genitori Che non ci compravano Ste cose E In media ovviamente Poi c'è sempre la distinzione Da fare Il consumismo Era più divisione classista Cioè Io bambino soffro Io genitore soffro Perché quello C'ha il Rolex C'ha il macchino Io c'ho appunto scassata E il figlio soffre Perché non c'ha Le scarpe squalo Ok E c'ha le scarpe De merda De Del mercatino Dell'usato Eh Però Oggi che succede Non è così Netta la distinzione In media Poi ci sono ovviamente Le differenze Però nelle scuole Si vede molto Lo vedo anche da L'ho visto dai miei fratelli Che so Due generazioni un po' diverse Da mia figlia adesso Cioè Come dice Marco Adesso noi siamo In realtà Falsi Detentori Di tutti i lussi Sono tutti Piccoli Microlussi Che in realtà Ci rendono poverissimi Sì Perché se uno poi Ci riflette Fa il bilancio Mensile Dei soldi che spende Si ritrova senza una lira Com'è possibile Che tante famiglie Con uno stipendio medio A un certo punto Arrivino A una settimana prima Della fine del mese O stipendi anche Abbastanza alti Diciamo Che non hanno i sordi Perché Eh Poi la somma Metti abbonamento Amazon Prime Masa Barcerbero E Netflix E finanziamento Da macchina E Le rate dell'iPhone Le rate dell'iPhone De tuo figlio Quest'altra cosa qua Eh Fai la somma Perché sembra poco Però sono tutti lussi Che tu in realtà Non te protesti Permette E il globo Che ti fa venire a casa Eh È così Tu per avere L'oggettino luccicante Che te lo danno anche Sì Ti è Pia dell'oggettino Che luccica Però Ce paghi per tre anni De fila Capito E quella è una cosa Che sta su De te Sul groppone Per tre anni Si aggiunge Un'altra cosa ancora Un'altra cosa ancora Quindi Levate la sub Al cerbero Levate la in questo momento Ragazzi Tutti Tutti Ah Sì no Quelli ricchi no Quelli ricchi donino Anche per gli altri Perché l'arte Deve essere fruita Anche da chi non ha soldi Quindi I ricchi in chat Donino sub E i poveri Disdicano L'abbonamento Giusto Ok I ricchi donino Le sabbe ai poveri Eh certo Certo Così che deve essere Donate le sabbe ai poveri Arte libera Però Visto che noi non potremo Lavorare gratis Per produrre questa arte Arte Giusto Giusto Dico bene Già tolta Bravi ragazzi Bene 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 Allora Se avete mai 21 Nel frattempo Levate l'abbonamento E E fatelo A voi stessi Belle Sacrosante parole Ciao Ciao Sì, mi sembra assurdo. State pure registrando. Aspetta, due caccia di una cosa, tutti al bagno. Come te fatti?